Salve amici, benvenuti nel mio piccolo studio e sicuramente per qualcuno di voi sono un volto nuovo quindi è necessario fare una mini presentazione. Sono Davide Pepi e sono musicista di Siena e suono la chitarra da quando ho 11 anni. Per me la musica è diventata fortunatamente un lavoro full time e ho fatto tantissime belle esperienze che mai mi sarei sognato di fare quando ero un chitarrista a ripresa con i primi assoli. Ho messo da parte tantissime idee e molta maturità e quindi oggi vi volevo presentare finalmente il mio primo progetto solista. Si tratta per la prima volta di qualcosa che mi rappresenta al 100% ma ragazzi per dare il 100% ho anche bisogno del vostro aiuto. Il disco sarà formato da 7 brani interamente strumentali su cui ho lavorato incessantemente da marzo 2018. Ci saranno degli ospiti che per me sono stati dei punti di riferimento musicali. ma ve li svederò prossimamente. Se tutto va bene riuscirò a pubblicare il disco soprattutto grazie al vostro supporto intorno a maggio-giugno e vi invito ad utilizzare il Music Razer per mettere da parte una copia ma ci sono anche degli interessantissimi premi che potrebbero interessarvi. Adesso ragazzi non mi resta che tornare a lavorare sui brani e mi raccomando restiamo in contatto per un'anteprima futura e per ulteriori dettagli. Un abbraccio a tutti! Grazie a tutti!